E' stato un passo indietro, non so voluto da chi, ma certamente è stato reintrodotto dopo che in Commissione le nostre proposte per rendere gli sgomberi più effettivi avevano trovato ascolto, tant'è che l'articolo 31 era stato accantonato e trasformato in un ordine del giorno. Ieri è rinato nel maxi emendamento, per le ragioni che non conosco ma penso di compromesso, la verità è che ciascuno deve tornare con le sue appartenenze. Chi è di sinistra stia con la sinistra e chi è di centrodestra ricomponga l'alleanza di centrodestra. Questo è il discorso che abbiamo detto in aula, rivolti anche alla Lega.